Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Oggi ho deciso di parlarvi di un caso che qualcuno di voi mi ha richiesto. Andiamo di nuovo nel lato oscuro di Hollywood per parlare della stranissima dipartita di Britney Morphe. Ma, come al solito, andiamo con ordine. Sono le 8 di mattina del 20 dicembre 2009. È una domenica e una donna sconvolta chiama il 911 da una casa nelle Hollywood Hills. La donna che chiama i soccorritori è molto agitata, dice che sua figlia è a terra, sta male e probabilmente è svenuta. L'operatore del 911 fa domande utili per valutare la situazione, ma quella donna è sconvolta, quasi fuori di sé. Riesce a dire solo, singhiozzando al telefono, che sua figlia ha 32 anni e non respira. Questo è chiaramente un caso urgente, ecco perché l'operatore del 911 chiede alla donna di controllare se c'è qualcosa che le occlude le vie respiratorie. Ma la figlia di questa donna ha vomitato tantissimo e continua a vomitare tanta, tanta acqua. Poi, ecco che entra in scena anche il marito della donna che riversa a terra. Ormai non respira più davvero, quindi suo marito si mette in ginocchia accanto a lei e inizia a farle un massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei soccorritori. Nel giro di pochi minuti arrivano i soccorsi, ad aprire la porta sono Sharon, la madre della donna riversa sul pavimento del bagno, e il genero della donna, un uomo di nome Simon Mongec, un inglese di circa 40 anni. I soccorritori si rendono ben presto conto che la donna riversa a terra è Brittany Murphy, una giovane e famosa attrice di Hollywood. Quindi la donna in pericolo di vita è una star hollywoodiana, la cui storia inizia poco più di 30 anni prima. Brittany nasce il 10 novembre del 1977, i suoi genitori sono Sharon Murphy e Angelo Bertolotti. C'è da dire che Sharon e Angelo si sono conosciuti in circostanze parecchie particolari. L'uomo nasce a New York, poi si trasferisce in Florida per aprire una serie di locali notturni. Angelo Bertolotti fa parte della criminalità organizzata, e quando conosce Sharon la assume immediatamente per farla lavorare in uno dei suoi locali. Sharon dal canto suo si sente attratta da quel tipo di vita, e soprattutto dai fiumi di denaro che scorrono in quel mondo. La coppia quindi si sposa, però la vita matrimoniale è tutto fuorché idilliaca. Angelo entra e dice dal carcere, finisce spesso nei guai, quindi il matrimonio non dura e si separano quando Brittany ha solo due anni. Lo stesso Angelo sostiene di essersi dedicato troppo al lavoro e poco alla famiglia. Poi arriva la bastonata finale. Angelo Bertolotti deve affrontare nove anni di carcere. Arriviamo quindi al 1980, quando Sharon stufa della situazione, molla il marito, prende Brittany e la porta a vivere con sé, a Edison, nel New Jersey. Per mantenere se stessa e la figlia, Sharon inizia a lavorare nella pubblicità, mentre Brittany, crescendo, inizia a dimostrare sempre più interesse per lo spettacolo. Da quando ha nove anni, Brittany punta il suo ditino verso la televisione dicendo guarda mamma, io voglio stare lì dentro, voglio andare in tv. Brittany ha molto talento, fin da piccola. Infatti non molto tempo dopo inizia a pensare in grande. Brittany cresce, conclude gli studi e poi va a vivere con sua madre ad Hollywood. Sharon è una colonna portante per Brittany. Guardandole sembrano più amiche che madre e figlia. Quando Brittany ottiene il suo primo ruolo, inizia a mantenere sia sé che sua madre. Quindi sì, il rapporto si trasforma, diventa più simile a quello tra una madre e una figlia. Ma è Brittany a prendersi cura di Sharon, sua madre, e non il contrario. Arriviamo nel 1995, quando la vita di Brittany cambia drasticamente. In quanto viene scelta nel cast di Ragazza Beverly Hills, un film dal grande successo commerciale. Questo film rappresenta un momento importante per la carriera di Brittany, però viene sempre scelta per gli stessi ruoli, ossia quello dell'amoretta un po' paffuta. La ragazza però vuole di più, non le bastano più quei ruoli. Vuole fare altro, vuole farsi notare. Si mette quindi a dieta, perde qualche chilo e si attinge i capelli di biondo. Ed è così che inizia davvero ad essere notata e scelta per ruoli ben più importanti. Infatti ottiene ruoli in film come Sin City ed Eight Mile. E mentre la sua carriera decolla, inizia a decollare anche la sua vita amorosa. Inizialmente Brittany frequenta chi incontra sui set dei vari film che gira. Il periodo di Eight Mile, ad esempio, è iniziato ad uscire con Eminem. Ma nessuna di queste storie dura. Brittany in realtà non si innamora di nessuno e quindi ben presto le sue relazioni vanno alla deriva. Arriviamo al 2006, quando Brittany legge una sceneggiatura tratta dal romanzo L'Albergo Bianco. Le piace parecchio. Quindi decide di incontrare lo sceneggiatore Simon Monge. Simon Monge è uno sceneggiatore, un regista e un cameraman. Si è fatto conoscere come la forza creativa dietro il film Factory Girl. Si tratta di un film vagamente ispirato alla musa di Andy Warhol. In realtà c'è da dire che Simon e Brittany si sono già incrociati, per caso, in passato. Senza però avere alcun contatto fino al progetto cinematografico del 2006. I due inizialmente si incontrano per parlare di lavoro, ma non si limitano a quello. Simon è un signore inglese di otto anni più grandi di Brittany. E quest'ultima si innamora perdutamente, convinta di aver trovato l'uomo dei suoi sogni. Simon per lei è perfetto e le dona quel senso di protezione che probabilmente non ha mai avuto da suo padre. Così i due iniziano a frequentarsi e nel giro di un anno si sposano. E Sharon, la madre di Brittany, va immediatamente a vivere con la coppia. La loro casa Beverly Hills vale circa 4 milioni di dollari. Quindi, Brittany e Simon stanno per iniziare una nuova vita. Arriva il 2007 e dopo le prime apparizioni pubbliche, Simon viene messo sotto la lente di ingrandimento della stampa, che non prova grande simpatia per lui in quanto è un uomo grande, grosso. Spesso non si fa la barba, è sempre in disordine. E quindi la gente guarda Brittany, guarda Simon e si chiede cosa abbia trovato di speciale Brittany in quell'uomo. Appena due anni dopo, Brittany Murphy giace priva di sensi sul pavimento del suo bagno. Quando i soccorritori arrivano, prendono in mano la situazione. Controllano i parametri vitali di Brittany e le sue condizioni non sono affatto buone. Anzi, sono molto critiche. All'improvviso però i soccorritori riescono a rilevare un battito debolissimo. Quindi si affrettano a caricare Brittany sull'ambulanza. È chiaro che la sua vita sia appesa a un filo. I medici durante il viaggio in ospedale fanno di tutto per mantenere Brittany in vita. E mentre l'ambulanza si dirige all'ospedale, Sharon e Simon la seguono con la propria auto. I medici fanno di tutto per rianimarla, tentano di farle ripartire il cuore. Purtroppo però non c'è nulla da fare. Alle 10.05 Brittany Murphy viene dichiarata morta. Sharon ovviamente è sconvolta, ha perso la sua unica figlia. Il padre di Brittany vive in Florida. E anche se nella vita di sua figlia non è stato molto presente, quando viene a sapere della notizia, il suo mondo va letteralmente a pezzi. Angelo non riesce a capacitarsi che sua figlia, una donna di 32 anni, nel pieno della sua vita sia venuta a mancare... Per... Per che cosa? Non è chiaro. È necessaria un'autopsia. Appena i media vengono a scoprire della morte della Gioverestar, si scatenano. Ne parlano tutti e mentre il pubblico piange la perdita di una stella nascente, le autorità di Los Angeles iniziano a cercare delle risposte per quella morte. Che cos'era successo davvero? Ed Winter è l'assistente del medico legale, capo della contea di Los Angeles durante il caso Brittany Murphy. L'uomo supervisiona tutte le indagini di morte delle celebrità avvenute nella contea. Ed Winter ha supervisionato la morte di Michael Jackson e di Whitney Houston. Così Ed Winter e i suoi colleghi riescono ad ottenere la cartella clinica e degli esami del sangue fatti a Brittany al ricovero in ospedale. Infine le autorità si dirigono a casa di Brittany. La casa è circondata da giornalisti e telecamere che chiaramente vogliono sapere la causa del decesso, vogliono sapere se sono presenti segni di trauma sul corpo e soprattutto se per caso si tratta di un reato. Ed Winter si limita a dire che avrebbero eseguito un'autopsia e ha ottenuto i risultati il prima possibile. Un paio d'ore dopo la dipartita della donna, le autorità interrogano Simon. L'uomo spiega che Brittany era stata male, aveva i sintomi dell'influenza. Le autorità notano però che Simon si comporta proprio in modo strano. Sembra andare di fretta, non riesce a stare fermo un secondo. Si siede, poi si rialza, cammina avanti e indietro. Le persone davanti a tragedie simili hanno molte reazioni diverse. Bisogna sottolinearlo, infatti Ed Winter sostiene di aver visto tante reazioni che vanno dal pianto disperato al silenzio più assoluto. Ma con Simon è diverso. L'uomo sembra confuso. Secondo le autorità è anche sotto qualche sostanza, almeno a loro pare sia così. Quando Ed Winter però comunica a Simon che sono intenzionati a fare l'autopsia su Brittany, l'uomo si irrigidisce. Non vuole assolutamente che venga eseguita alcuna autopsia. Ed Winter però spiega a Simon che non possono non farla. L'autopsia in casi del genere si esegue sempre. A meno che non fosse stato in grado di addurre motivi religiosi o ancora un divieto del tribunale. Una domanda però qui sorge spontanea. Perché Simon è così contrario all'autopsia? Non vuole sapere cosa si è successo a sua moglie? Oppure lo sai a paura che questo motivo venga scoperto e anche reso pubblico? Brittany era una donna di 32 anni e in teoria era in gran forma. Questa sua morte proprio non si spiega. Una donna di quell'età non stramazza solo morta senza motivo. A tutto ciò ci deve essere una spiegazione. Dopo aver interrogato Simon Ed Winter e i suoi colleghi, iniziano a setacciare casa di Brittany per cercare prove. Quando le autorità per cui esiscono la camera da letto, trovano circa 90 confezioni di farmaci prescritti a nome di Simon. Infatti sono sul suo comodino. Però sul comodino di Brittany trovano altrettanti farmaci. La quantità è notevole, per di più stiamo parlando di tanti tipi di farmaci pesanti, come vari ansiolitici e antidepressivi. Oltre a vari antidolorifici che creano facilmente dipendenza. Parliamo insomma di farmaci importanti da non assumere alla leggera. Insomma vanno assunti sotto controllo medico. Ma in questo caso sembra proprio che non sia così. Ci sono talmente tanti farmaci in quella casa, che l'ufficio del medico legale richiede un mandato per diverse farmacie. Una di queste è la Addis Pharmacy, a West Hollywood. Il proprietario dice all'autorità che ha ritirato circa 100 ricette mediche, nei due anni precedenti alla morte di Brittany. Quelle ricette erano intestate a Brittany, a Simon, e infine anche a sua madre, Sharon. L'uomo dice quindi all'autorità che si era accorto che c'era qualcosina che non andava. Ecco perché quattro mesi prima della morte di Brittany, si è rifiutato di fornire i farmaci. Insomma era chiaro che in quella casa qualcuno si era procurato delle ricette mediche da più parti. In seguito a queste scoperte, emergono storie che mettono in dubbio l'immagine della brava ragazza che aveva Brittany. I media infatti iniziano a parlare di alcuni strani eventi, che si erano verificati nella vita professionale della donna. Ad esempio era solito andare sul set sotto l'effetto di sostanze, non si ricordava le battute. Insomma tutti questi comportamenti erano lontani dal suo carattere. Infatti all'inizio della sua carriera Brittany non era assolutamente così, è sempre stata precisa e puntuale. Poi con Simon le cose purtroppo sono iniziate a peggiorare e la donna ha ricevuto inevitabilmente grosse ripercussioni sulla sua carriera. Brittany Murphy nel 2002 recita in un film dal titolo Spun e purtroppo si scopre molto presto che la ragazza fa uso di Coca-Cola con Simon a fine giornata. Insomma la sua carriera a causa di queste bruttissime abitudini si sta prosciugando lentamente. E mentre la sua carriera va a rotoli, Brittany pensa di poter pretendere le stesse cose che pretendeva quando era all'apice. Ma la verità è che oramai moltissimi le chiudono la porta in faccia perché per quanto Brittany sia una brava attrice non riescono più a lavorare con lei. Il suo manager e il suo agente ben presto prendono le distanze dalla donna. Si licenziano. E quindi la carriera di Brittany va davvero ufficialmente a rotoli. Il suo telefono smette di squillare e nessuno la chiama più per produzioni importanti. Riceve offerte solo per i piccoli film di serie B con dei budget minimi, soprattutto thriller e horror. Molti collegano il crollo della carriera di Brittany ad un cambiamento nella sua vita molto importante. E non è una cosa da poco. Perché l'agente a questo punto ha iniziato a fare mente locale. E ha realizzato che Brittany ha iniziato a comportarsi in modo così incostante nel momento esatto in cui si è messa con Simon Mongec. Gli amici di Brittany sostengono che lui le controllava tutti i contatti. C'erano addirittura manager e agenti con cui le impediva di parlare. Li diceva quale ruole accettare. E se qualcuno vuole arrivare a Brittany, prima deve parlare con Simon. Le voci che girano quindi riportano la morte di Brittany sotto i riflettori. E le persone iniziano a pensare che Simon abbia avuto un ruolo importante nella morte della star. Arriviamo a gennaio 2010, quando tutti aspettano il referto dell'autopsia. Iniziano a farsi avanti persone che sostengono di sapere dei segreti di Simon Mongec. Una di queste è la presentatrice Simone Bien. Lei è la prima moglie di Simon Mongec. I due si sono conosciuti nel 2001 e si sono sposati a Las Vegas. Per conquistare la sua prima moglie, Simon le dice che è l'erede di un'acciaieria. Peccato che non sia vero. Appena si sposano, Simon si trasferisce a casa della sua nuova moglie. E ben presto diventa sciatto. È così che nel giro di una settimana, i due si separano. La coppia quindi divorzia e raggiungono un accordo davanti al giudice. A Simon è stato imposto di versare 50.000 dollari sul conto di Simon. Ebbene, secondo voi glieli ha dati? Assolutamente no. Ben presto si iniziano a sollevare dei dubbi anche sul lavoro più importante di Simon. Infatti quest'ultimo ha fatto causa ai produttori del film Factory Girl, sostenendo che gli abbiano rubato la sceneggiatura. Ebbene, piuttosto che iniziare una battaglia legale, lo hanno citato come sceneggiatore per liberarsi di lui. Questa è la verità. Il punto è che Simon ha costruito tutta la sua carriera attorno al ruolo di sceneggiatore di Factory Girl. Peccato fosse tutto finto. E infatti ben presto si scopre che durante la sua carriera Simon si è fatto un sacco di nemici. Quindi la verità qui è che Simon Mongec era un ciarlatano, un truffatore e un estorsore. Ha completamente tagliato fuori dal mondo Britney. In pratica Simon è riuscito a chiuderla in casa. È riuscito a convincerla ad assumere dei farmaci per il suo bene, senza controllo medico. Simon in pratica era arrivato a controllare Britney. E chiaramente ha avuto una pessima influenza su di lei. Molti sostengono che l'obiettivo dell'uomo era uno, fare molti soldi e farli in fretta. E la carriera di Britney poteva effettivamente farlo diventare ricco. A quanto pare a lui interessava questo, nient'altro. Due mesi dopo il decesso, il referto dell'esame tossicologico di Britney è pronto. E le conclusioni sono davvero inaspettate. Infatti il referto finale dell'autopsia di Britney sostiene che è morta di polmonite, era anemica ed era andata in overdose da farmaci da banco. Secondo Ed Winter, tutte queste condizioni hanno contribuito alla morte della donna. Infatti aveva avuto i sintomi dell'influenza per circa una settimana, dieci giorni. Una donna di 32 anni in effetti può morire se ne vengono dati solo farmaci da banco per una malattia ben più seria. E Winter crede che a Britney sia successo proprio questo. Poi c'è l'anemia, una condizione tutto sommato comune, che però ha compromesso ulteriormente il suo sistema immunitario. Infine ha abusato di farmaci e sostanze. In molti si stupiscono che negli uni negli altri abbiano giocato un ruolo determinante nel suo decesso. Inoltre Britney era solito utilizzare, citando le sue parole, un approccio olistico. La donna quindi crede nell'automedicazione. E secondo me questo è un enorme problema. E proprio questo secondo me è in realtà il problema che l'ha portata alla morte. Perché al posto di vedere un medico, Britney di solito prova a curarsi da sola. Ripeto, prova a curarsi da sola. La verità è che se Britney fosse andata da un medico o in ospedale, quando sono iniziati i suoi sintomi, la sua morte si sarebbe potuta tranquillamente evitare. Aveva una polmonite e la polmonite non si cura con dei farmaci da banco. Si pensa siano stati proprio questi medicinali a mascherare il problema. Mi spiego meglio. Questi medicinali non hanno agito sulla polmonite, ma hanno calmato alcuni sintomi. Ecco perché non si è capito fin dall'inizio quanto fosse grave il problema. La domanda che tutti si pongono è, perché Simon non l'ha aiutata? Perché non l'ha portata lui stesso da un medico? Se lo avesse fatto Britney non sarebbe morta. E su questo non ci sono dubbi. E qui nasce un altro problema. La mancanza di un'azione decisa dalla parte di Simon suscita ancora più sconcerto da parte dei media. È così che l'uomo, per tentare di difendersi, appare in un'intervista sulla TV nazionale a fianco di Sharon Murphy, la madre di Britney. Inizia il suo resoconto della morte di Britney dicendo testuali parole. Quel giorno è successo che Britney aveva la laringite. Non avevo idea di cosa fare quando si ha la laringite. In fondo io sono un rabbino, mica un medico. Io predico, non prescrivo. Poi il presentatore solleva la questione dell'autopsia di Britney. Il presentatore infatti dice All'inizio lei non era a favore dell'autopsia di Britney, giusto? Simon risponde No, infatti, per noi è stato uno shock. Quel corpo puro, con tutte le forme al posto giusto, la pelle di seta. Quetante, ma andiamo avanti. Sharon Murphy a questo punto prende la parola e aggiunge Ci pensi? Lei non è morte in un incidente. Simon rincara la dose dicendo Come potevamo dire davanti a sua madre? Ok, fatela pezzi. Ma che follia è? È inconcepibile. Certo, un'autopsia è una follia. È inconcepibile. Bravo Simon. E ora io dico Certo, è difficile il pensiero che il corpo di un nostro caro, defunto, venga sezionato. Ma il modo in cui Simon descrive il corpo di Britney è davvero inquietante. Quel corpo puro, con tutte le forme, al posto giusto e la pelle di seta. Il presentatore comunque continua dicendo a Simon Cosa risponde a chi dice che è un manipolatore? Simon risponde Ma magari fossi così fortunato! In pratica più Simon parla più dà l'idea di essere un uomo strano. E io dico, eh grazie al cavolo! Ma che cacchio di risposte ha dato a quelle interviste? Santo cielo! E infatti Simon desta sempre più sospetti. Mentre la madre di Britney, Sharon, in quell'intervista viene percepita dal pubblico come inquietante. A questo punto c'è una domanda a cui serve dare una risposta. Cosa succedeva davvero in quella casa? Cosa viveva davvero Britney quotidianamente? In ogni caso la grottesca intervista di Simon non riesce di certo a placare il pubblico. La gente continua a guardarlo con sospetto, chiedendosi chi diavolo si nasconda dietro il suo personaggio. Perché sono convinti che quello non è il vero Simon, ma un personaggio. Quindi Simon fa una genialata, decide di invitare i giornalisti nella casa in cui è venuta a mancare Britney. E si sofferma ad escrivere proprio in modo minuzioso il bagno che è pieno di creme e cosmetici della donna. Simon spiega dove Britney è caduta, in che modo è caduta, fa vedere il suo guardaroba. Tira fuori dei vestiti a caso dicendo, oh ma che carino questo vestito, non glielo ho proprio mai visto addosso. Tutto ciò è inquietante, era capricciante a dir poco. Mentre i giornalisti lo riprendono, fuma il sigaro tranquillo, racconta tranquillamente di com'era stare con Britney. In particolare Simon dice una frase che però io non ho capito. Simon dice È pazzesco. Io suonavo il pianoforte e lei si sdraiava a terra e si addormentava. Facevamo cose così. Ogni festività era uno spasso, era davvero pazzesco. E non ho capito, è pazzesco che lei si sdraiasse per terra e si addormentasse? Non mi è chiaro. Questo in ogni caso ben presto si rivela una mossa di pessimo, pessimo gusto. Un vero e proprio disastro. I sospetti riguardanti il ruolo di Simon nella dipartita della moglie continuano ad aumentare. Ma ben presto arriva il 23 maggio del 2010. E un evento totalmente inaspettato cambia drasticamente lo scenario. Dopo poco più di cinque mesi dalla morte di Britney, sua madre Sharon chiama nuovamente il 911. Dicendo che il suo ex genero ha smesso di respirare. Sharon prova a fargli un massaggio cardiaco, ma senza successo. Nel giro di pochi minuti giungono i soccorsi. La casa è totalmente sotto sopra. L'uomo è coricato a letto a pancia in su. Quindi lo stendono a terra, gli praticano un massaggio cardiaco, ma purtroppo non riescono a salvarlo. Alle 21.45 viene dichiarato il decesso di Simon Mongec, appena cinque mesi dopo la morte di sua moglie. Edwinter assume nuovamente lui il caso. Torna quindi nella stessa casa per effettuare un'ennesima perquisizione. E trova altri tanti farmaci in camera da letto a nome di Simon, ma anche a nome di altre persone. Ad esempio, alcuni di quei farmaci sono stati prescritti ad un certo Trevor Williams, mentre altri sono a nome di Sharon, la madre di Britney. Quando Ed Williams fa quella scoperta, va immediatamente a interrogare Sharon, che ripete in continuazione che Simon è venuto a mancare di crepacuore. A questo punto chiede a Sharon perché mai ci sono i suoi farmaci nella camera da letto di Simon, che condivideva con Britney. E Sharon risponde che lei e Simon dormivano assieme, dividevano a letto. Insomma, si consolavano a vicenda per la morte di Britney. Però c'è un problema. In delle interviste successive, Sharon nega l'esistenza dei farmaci a suo nome e del fatto che dormisse col suo ex genero. Questo cambio di rotta di Sharon risulta davvero poco, poco, poco probabile. In quanto i due dormivano assieme e come si dormivano assieme. Altrimenti non si spiega come mai Sharon abbia spostato tutti i suoi effetti personali dalla sua camera da letto, che aveva da anni quella del marito di Britney. Arriva il 22 luglio del 2010, il medico legale comunica i risultati dell'autopsia fatta su Simon Mongek. Le condizioni di salute di Simon già in partenza non erano assolutamente ottimali. Il medico legale conclude che la causa del decesso è stata una grave polmonite e un'anemia. Esattamente come sua moglie Britney. La domanda ora è, come diavolo hanno fatto questi due, marito e moglie? Uno di 130 kg, l'altra di 52, morire per le stesse identiche patologie. Tutto ciò davvero inquietante. Di nuovo, e i media sono basiti. Queste strane morti però alimentano le perplessità di un uomo in particolare, Angelo Bertolotti, il padre di Britney. L'uomo sostiene che non concorda affatto con le conclusioni del medico legale. Di conseguenza vuole sapere come è morta davvero Britney. Angelo si rifiuta di credere che la morta di Britney sia stata accidentale, sospetta di un omicidio. Angelo quindi si rivolge ad un famoso esperto per scoprire la verità. È così che entra in azione il dottor Cyril Wetch, un patologo forense e medico legale consulente. Il dottore sostiene che il referto dell'autopsia di Britney potrebbe contenere una causa del decesso abbastanza valida, sebbene rara per qualcuno di quell'età. Soprattutto per qualcuno che era benestante e non viveva in un rifugio di fortuna o in mezzo a una strada. Angelo fa ricerche molto approfondite sulla causa della morte di Britney, la polmonite, ma soprattutto l'anemia. È così che Angelo scopre che alcune persone decedute per gravi casi di anemia erano in realtà morte per avvelenamento da arsenico. Questo è un fatto molto importante da tenere in considerazione se sei un medico legale e devi effettuare un'autopsia. Angelo inoltre scopre che il medico legale di Los Angeles non ha mai fatto analizzare i capelli di Britney, quindi presenta lui stesso un'istanza per ottenere un campione di capelli. Dopo non poca fatica Angelo ottiene l'autorizzazione per procedere. Angelo quindi invia il campione di capelli ad un laboratorio del Colorado e una volta ottenuto il referto lo manda al dottor Wetch perché lo esamini e lo analizzi. Ebbene quei risultati si rivelano sorprendenti. È stata rilevata infatti la presenza a livelli significativi di 10 metalli pesanti e per molti di essi questi livelli sono ben superiori a quelli consentiti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'avvelenamento da metalli pesanti può causare giramenti di testa, sudorazione, crampi, tosse, letargia, tutti i sintomi che Britney ha accusato prima di morire. I risultati di quell'analisi portano il dottor Wetch a fare delle domande scomode. Non sa se quei metalli pesanti erano presenti nel suo organismo, in quanto si parla di sostanze che vengono ingerite e poi si accumulano nei capelli. La loro presenza non è stata rilevata dagli esami del sangue effettuati a Los Angeles. Ovviamente queste scoperte generano sempre le stesse domande ma la più importante è una cosa diavolo succedeva in quella casa. Angelo Bertolotti è convinto che sua figlia sia stata avvelenata. Il dottor Wetch e Angelo Bertolotti tentano di effettuare altri esami sui resti di Britney però incontrano un problema. L'autorità legale della madre, ossia Sharon, e quando le è stato chiesto il permesso ha negato loro di procedere. Sharon si è apposta strenuamente alla riesumazione del cadavere di sua figlia e anche questo fatto è passo molto strano ad alcuni. Insomma, perché una madre non vuole conoscere la causa della morte della propria figlia? Angelo ritiene che ci sia una spiegazione semplice all'atteggiamento di Sharon. Britney è stata avvelenata proprio da Sharon, sua madre. O meglio, Sharon prima ha avvelenato sua figlia e poi Simon per coprire le tracce della sua colpevolezza. E in effetti, pensandoci bene, Sharon era addirittura sopravvissuta a un cancro. A dirla tutta, quella più a rischio di ammalarsi o morire era proprio lei. Angelo inoltre pensa che i piani per il futuro di Britney e Simon possono essere un possibile movente. In quanto Simon amava New York e avrebbe tanto voluto andare a vivere lì. Ma Sharon in quel matrimonio era il terzo incomodo. Quindi Simon avrebbe voluto staccarsi da Sharon per iniziare una nuova vita con sua moglie a New York. Insomma, Britney e Simon magari volevano anche mettere su famiglia. E Sharon stava per essere lasciata indietro. Angelo inizia a nutrire questi sospetti perché conosce Sharon e non è il tipo di persona da accettare una scelta del genere senza opporsi. Nonostante ciò, Sharon nega, nega tutte le accuse. Punta invece il dito verso Angelo dicendo che qual uomo vuole solo tenere i soldi di sua figlia? Nient'altro. Sharon scrive anche una lettera contestando gli esami effettuati sui capelli come inadeguati. E io qui mi dico, ma Sharon è un medico? Come fa lei a contestare le parole di un patologo forense, santo cielo? In ogni caso, oltre a fare questo, respinge le accuse del suo ex marito definendole false. Diversi anni più tardi, dopo aver tentato varie strade, Angelo smette di lottare. Nel 2017 le sue condizioni di salute peggiorano e al tempo stesso Sharon continua a rifiutarsi di collaborare. Quindi uomo ha deciso di tirarsi indietro. Nonostante ciò, la morte di Britney solleva ancora parecchi dubbi. E infatti, quando sono state palesate le perplessità dell'esame sui capelli, il medico legale di Los Angeles aveva il dovere di eseguire delle analisi per verificare e corroborare i risultati di quegli esami oppure dimostrare che non erano validi, erano incongruenti, rilevanti. Eppure non sono stati fatti ulteriori esami. Questo significa che la morte di Britney Murphy continua ad essere un enorme mistero. Un mistero che purtroppo non verrà più risolto da nessuno in modo significativo nei prossimi anni. È troppo tardi ormai per riesaminare quel corpo. In quanto i resti sono stati contaminati dal terreno e le analisi non darebbero risultati utili. Allo stesso modo, il dottor Wetch sostiene di aver visto il referto dell'autopsia di Simon Mongec e non ha alcun dubbio sia morto per cause naturali. La contea di Los Angeles respinge l'idea che Britney sia stata avvelenata e sostiene i risultati dell'autopsia. Ad Winter sostiene che durante l'autopsia hanno esaminato tessuti sangue e urine credendo che fosse sufficiente. Non hanno rilevato nessuna traccia di metalli nell'organismo. Insomma, l'uomo è convinto che Britney non sia stata uccisa almeno secondo le informazioni che sono in loro possesso. È così che il caso di Brittany Murphy si chiude. A mio parere però, la domanda principale rimane ossia, cos'è accaduto realmente? Il decesso potrebbe essere stato accidentale, vero? Ma poteva essere evitato. Ripeto, sarebbe stato sufficiente andare da un medico. Detto ciò che ho finito di parlare in questo video spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso. Lo conoscevate? Immagino di sì. Però è un caso molto particolare quindi sono curiosa di sapere le vostre opinioni. Detto questo, io vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi. Ciao ragazze, ciao ragazze, ciao ragazze